buongiorno buongiorno a tutti buona serata buon pomeriggio secondo te che ora vedrete questo video allora oggi voglio fare sono sarò molto breve perché la spiegazione sarà un po più dilungata mi dispiace ma purtroppo non si possono fare le cose in tre minuti e oggi voglio mettervi in condizione di poter creare un impasto da sole in che senso nel senso che se volete usare delle farine particolari pur rimanendo il fatto che di base dobbiamo avere una farina che ci dà struttura quindi un'impalcatura però magari a noi piace un po più la segale a noi piace un po più la semola a noi piace un po più il farro il farro integrale oppure una farina agricola che ci hanno regalato oppure una farina di mulino che abbiamo comprato eccetera tutto si può fare però non sulla base di ricette preconfezionate mi piacerebbe molto che chi mi segue su questo canale sul nostro canale si è messo in condizione soprattutto quelli un pochino più esperti quelli che mi seguono da un po di tempo o che seguono anche altri che sono un po' infarinati con gli impasti con le maturazioni con la pratica proprio può essere un buon spunto per poter cominciare a provare a creare un impasto e una pizza nostra no? E dire alla fine questa cosa l'ho creata io parlo di prefermento assolutamente di prefermento partiamo da questo proprio perché siamo in uno step successivo dobbiamo cominciare a capire che il prefermento come la biga come in questo caso che vi vado a far vedere non è soltanto una questione di maggiore sviluppo la biga messa su un impasto al 50% del totale non è regala comunque sapori bucchetti aromi croccantezza colorazione sicuramente tiriamo fuori un prodotto eccellente ma va usata con un certo criterio e noi oggi faremo un impasto comunque progetteremo un impasto al 50% in biga e quindi andiamo ho anche parlato troppo io ho preparato degli slide allora intanto vediamo di ideare no? Un progetto di pizza no? che vogliamo fare noi no? Che poi alla fine diremo questa cacchio l'ho fatta proprio io giuro no? Ok allora andiamo gli ingredienti sono diciamo su un chilo di farina idratata all'80% un chilo di farine miste possono essere miste allora innanzitutto per la biga ci serve assolutamente una farina di una certa importanza di una certa forza abbiamo bisogno di struttura anche perché questa questa biga se fatta come giurilli comanda deve essere fatta in questo modo ora ci sono molte moltissime varianti l'idratazione a chi aggiunge sale chi mette meno acqua chi mette più acqua chi mette non lo so però la biga giurilli è questa allora noi affoghiamoci al mare grosso come si dice e usiamo i sistemi dei grandi maestri quindi andiamo ad usare una classicissima biga giurilli abbiamo bisogno come vedete vediamo un po' di farina forte 500 grammi di grano tenero che deve essere una forza di V300 V320 va benissimo una caputo rossa va benissimo insomma intorno a questa a questa forza qui ok dobbiamo avere una 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 quantità percentuale di proteine sulla pizza che sta intorno al 12 12 12 e mezzo 13 anche ok poi abbiamo bisogno per arrivare al chilo abbiamo bisogno di sfarinati leggeri 500 grammi che possono anche essere dei mix tenero di media forza quindi intorno tutto questo intorno ai 250 oppure semola rimacinata farro bianco integrale oppure mix di queste farine ho messo per esempio vi do qualche altra indicazione se vi piace un pochino di segale potete fare per esempio sempre mantenendo 500 grammi quindi mixando 100 grammi di segale non di più mi raccomando e 400 grammi di tenero sempre di media forza oppure 400 grammi di semola rimacinata oppure 400 grammi di farro bianco oppure 100 grammi di segale e 200 grammi di farro integrale e 200 grammi di farina di grano tenero media forza sempre sui 250 quindi insomma qui a questo punto in questa fase qui vi divertite moltissimo quindi la create voi la pizza poi acqua 800 grammi per fare una teglia ci vuole l'acqua ragazzi perché l'acqua ci aiuta anche nella fermentazione l'impasto è più leggero l'impasto è meno spugnoso i lieviti in acqua lavorano meglio per cui non abbiate paura usate l'acqua nella pizza quindi 800 grammi se proprio non vi sentite sicurissimi provate con il 70 quindi qui calcolate sul totale 700 grammi ma io non preferisco che facciate le cose proprio fatte bene lievito compresso ce ne servono 5 grammi usate lievito fresco di birra lievito compresso quello i panetti che si comprano al supermercato compratevi un bilancino di precisione il lievito deve essere preciso con le bilance con cui misuriamo la farina non siamo mai sicuri al cento per cento un bilancino dai cinesi lo avrò ripetuto mille volte costa una sciocchezza è una cosa importante per il sale per il lievito per tutto per tutte le cose che dovete usare in minima parte il sale 2 per cento quindi 20 grammi sul totale sempre grassi 2 per cento che possono essere olio evo olio di semi o strutto a voi a voi la scelta e 5 grammi di malto diastatico in polvere ok allora questa è la scheda del totale come facciamo a progettare il nostro impasto mettendo tutti questi ingredienti che non ci piacciono molto a nostra scelta in un impasto con biga andiamo a fare la biga per fare la biga noi da quegli ingredienti che abbiamo visto poco fa dobbiamo prendere chiaramente i 500 grammi di farina forte no la biga va vedete va idratata al 50 per cento quindi sempre da quegli 800 grammi di acqua andiamo a prelevare 250 grammi e i 5 grammi di lievito di birra sciogliamo il lievito in 250 grammi di acqua entriamo con i 500 grammi di farina forte mescolare senza incordare e tenere a 18 a 18 ore a 18 gradi oppure 17 ore a 20 gradi non la mettete in frigorifero ottenete la temperatura ambiente ora siamo a fine ottobre è vero che ancora fa caldino ma nelle case insomma siamo intorno ai 20 gradi no quindi abbiamo anche l'opportunità in questo momento di avere una temperatura ideale per preparare una biga come si prepara una biga adesso ve lo faccio vedere rimuoviamo la slide e vi faccio vedere come si prepara una biga eccola qui partiamo questo proprio per chi non ha mai fatto una biga allora vediamo un attimo di mi sa se si riesce a togliere allora mettiamo tutta l'acqua quindi 250 grammi d'acqua sciogliamo dentro i 5 grammi di lievito di birra fresco allora io ho lasciato questo video in tempo reale ho calcolato che dura quindi il tempo che si impiega per preparare una biga circa di quattro minuti ok quattro minuti più i cinque minuti per poter pesare gli ingredienti ed è una cosa veramente veloce si scioglie possibilmente dentro una bassoio tipo questo largo basso tanto non deve crescere capito dopo aver sciolto il lievito si mette tutta la farina di forza e si comincia a fare questo movimento allora non dovete assolutamente fare il movimento dell'impastamento perché altrimenti andiamo a sviluppare glutine e sarebbe meglio non no sarebbe meglio non bisogna sviluppare glutine bisogna solo mescolare così e lasciare un impasto molto grezzo molto stracciato e ecco assi perché larga perché vedete in questo modo riusciamo anche a vedere se sotto rimane farina libera lì qui dovete proprio raschiare aspettate vi rimetto l'audio con il movimento con questo tipo di movimento con questo tipo di attrito io vado a prendermi anche la il rimasuglio diciamo di farina libera che inevitabilmente resta sotto perché comunque un impasto molto asciutto deve essere tutto bagnato ma non deve essere farinoso nel senso che non bisogna vedete lasciare farina libera io addirittura prendo dei pezzi umidi e mi vado a pulire vedete il contorno in questo modo come potete vedere non sto ascoltamente impastando è molto stracciata molto grezza mi devo solo assicurare di raccogliere di bagnare tutta la farina e basta la spezzetto un po la distribuisco bene nulla un piano in piano così e la vado a coprire fatta la biga tre minuti ragazzi veramente tre minuti la copriamo ma non la sigilliamo quindi con un foglio di car di di pellicola la copriamo appena senza sigillare se per caso avete un contenitore con il coperchio lasciata appena appena una piccola fissura in modo di far entrare l'ossiglio appena appena vedete io la copro appena così non è sigillato e la lascio così ci siamo ci siamo allora una volta fatto questo la biga va lasciata appunto come vi avevo detto precedentemente 18 ore 18 gradi che cosa c'è rimasto una volta che è maturata da fare l'impasto quindi che poi nel caso della biga si chiama rinfresco non impasto e che cosa c'è rimasto vediamo un attimo allora la farina forte l'abbiamo messa nella biga ci dobbiamo mettere gli sfarinati leggeri quello che vedete in blu qui sono quelli da aggiungere diciamo nel nell'impasto finale l'acqua noi ne avevamo pesata 800 grammi quindi ne avevamo ideata 800 grammi ce ne rimane 550 grammi il sale sono 20 grammi i grassi 20 grammi e il malto diastatico 5 grammi che cosa andiamo a fare andiamo a mettere la biga e nell'impastatrice cerchiamo di scioglierla il più possibile con una parte di quest'acqua circa la metà no cominciamo a farla sciogliere aggiungiamo il nostro mix a scelta di farine leggere ok l'olio il sale e 5 grammi di malto portiamo ad incordatura l'impasto come al solito entriamo con l'acqua ma tanto la biga è un impasto molto assorbente quindi vedrete che non avrete problemi una cosa che vi consiglio di fare per la pizza oltre a tutto questo è di non esagerare con l'incordatura appena vedete che il l'impasto a velocità media non si attacca più ha preso consistenza ha preso corda smettete non c'è bisogno di portare un impasto con un incordatura a ferro ok è vero che stiamo lavorando farina leggere questo qui per esempio è un'altra cosa che bisogna sempre tenere a mente soprattutto con la pizza perché è una cosa che ci ritroveremo poi sotto i denti nel senso che se noi siamo bravi a creare una maglia glutinica giusta non troppo forte né troppo lenta ovviamente la maglia glutinica ci vuole è necessario perché comunque si creano dentro quelle quei famosi sacchetti comunque che con la maturazione si riempiono di un adenitrite carbonica e quindi di ossigeno e quindi le bolle devono essere resistenti quindi la maglia glutinica dobbiamo crearla però senza esagerare perché altrimenti rischiamo di trovare la gommosità poi dopo la fine nel prodotto finito ok questa è un'altra cosa tra parentesi una volta fatto l'impasto lo togliamo dalla macchina se c'è bisogno diamo una piega non di più perché anche le pieghe cioè anche quelle no danno forza e soprattutto tenacità all'impasto lo mettiamo in una cassetta lo teniamo a temperatura ambiente temperatura ambiente controllando i volumi controllando il raddoppio mettete un segno appena appena anche prima anche un attimo prima mezzo centimetro prima che arrivi al raddoppio facciamo lo staglio facciamo la formatura anche l'appretto sarà molto molto veloce stendiamo condiamo e andiamo in forno che cosa abbiamo realizzato in questo modo il nostro il vostro impasto ed è quella la cosa bella no è quello il divertimento potete tranquillamente dire ho creato il mio impasto pizza ideale potreste azzeccarci alla al primo tentativo ma ma non come realizzazione come resa proprio come sapore no come gusto quindi potreste realizzarlo al primo tentativo potrebbero volerci due o tre volte troppa segale no mi sa che stavolta non ce la metto per niente ci metto solo semola oppure una cosa che vi consiglio è al di là dei gusti comunque di aggiungerci sempre un pizzico di farro perché da una leggerezza e una una sofficità guardate barabonda cioè barabonda secondo me il trucco di barabonda è proprio il farro cambiare le bonci mette il farro su qualsiasi impasto addirittura il monococco ci volete provare mettete 50 grammi di monococco in quel mix in seconda battuta fate un po' di prove divertitevi no ci potete mettere 50 grammi di russello 50 grammi di pesce a sacchi potete metterci chiaramente non dovete esagerare con quelle farine lo sapete insomma quelle sono sono profumazioni sono è un aroma ok non non possiamo pensare ecco quindi io spero che questa cosa vi piaccia che questa cosa soprattutto vi dia lo stimolo lo stimolo di di osservare le cose e anche di prendere un po in mano no la vostra situazione è veramente bella questa 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 visione delle cose divertirci a creare qualcosa di nostro però senza dimenticare le basi i fondamenti della panificazione non si può pensare di fare una una farina una pizza con un grano antico con un diretto autolisi gelatinizzazione poi di tutte queste cose ne parleremo più in là perché andiamo ancora più sullo specifico e capirete ancora meglio anche con la scelta delle farine che cosa bisogna andare a guardare in una farina per ottenere certi risultati ma ripeto un passo alla volta ora divertitevi a creare il vostro impasto se avete domande chiaramente fatele sotto al video e cercherò di rispondere a tutti se avete dei dubbi iscrivetevi al mio canale officina grusco urbana su facebook io sono molto presente anche lì regalatemi un like perché a youtube piace tanto quando mettono i like perché lui dice ok allora tanti like barbara è brava anche molte interazioni molte domande quindi è molto interessante mi dà più visibilità io vi volete aiutarmi o aiutare il canale a crescere insomma continuare andare avanti anche con entusiasmo con il co potete abbonarvi alla al primo step non vi do niente non vi do niente di più di quello che do però è un aiuto che che può essere utile donazioni cosa ma la cosa proprio veramente molto molto più importante è sono i like e i commenti io aspetto quello condividete il canale con gli amici fate questo vostro impasto il più bello e quello che riuscirà meglio lo faremo insieme poi e pubblicheremo la ricetta insieme ok quindi fate un po di questi esperimenti e poi più mi più quello che mi ispirerà di più lo faremo lo rifaremo lo ripiegheremo chiaramente citando l'autore che sarà uno di voi e lo rifaremo per tutti quanti insieme su questo sul nostro canale un bacio a tutti e alla prossima